Una guerra infinita che da una parte vede lo strapotere delle banche con le sue appendici politiche e dall'altra un imprenditore coraggioso che da decenni lotta contro l'usura legalizzata degli istituti di credito. Uno scenario che ha visto due processi, Palmi 1 e Palmi 2, e la vicenda che riguarda Nino De Masi con la sua azienda è una notizia positiva che si intravede all'orizzonte. La procura generale presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria rappresentata dal sostituto Giuseppe Adornato e quella di Palmi con il sostituto procuratore Rocco Cosentino hanno proposto appello contro la sentenza emessa dal Tribunale di Palmi a fine ottobre scorso che ha scagionato sette ex funzionari, alcuni ancora in carica, di Banca Anton Veneta e BNL. Nel processo Palmi 2 sono stati assolti con la formula del fatto non costituisce reato Enrico Pernice e Achille Mucci, per i quali il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a un anno e otto mesi e per non aver commesso il fatto Davide Croff, Mario Girotti, Ostiglio Riotti, Rocco Segreti ed Ernesto Manna, per i quali anche il PM aveva avanzato richiesta di assoluzione. Ma le due procure ritengono che il Tribunale ha completamente ignorato con palese o messa motivazione tutte le argomentazioni e prove indicate ed illustrate dal PM. Il primo elemento è ignorato dal Tribunale, scrive il sostituto della Procura Generale Regina, è dato dal superamento del tasso di soglia, ma nel caso in esame, via dell'altro alla difesa di De Masi, ha depositato un documento proveniente da Banca d'Italia e consistente nel provvedimento di condanna di 13 banche italiane che si riunivano mensilmente per stabilire i tassi da applicare e per definire le strategie per ottenere i maggiori ricavi. Ricordiamo che l'applicazione del tasso usuraio è stata riconosciuta con la formula della responsabilità oggettiva, ma non soggettiva. A giudizio della Procura però i vertici delle banche non potevano non sapere i tassi che venivano applicati alla clientela. Inoltre è stato apposto rilievo sullo studio di crisi dell'azienda di De Masi che opera nell'area industriale di Gioia Tauro. Non è stato mai preso in considerazione la seconda parte dell'articolo 644 del Codice Penale. Le conclusioni dell'appello sono state molto dure. Il Tribunale ha ignorato che si tratta di un sistema ben organizzato per ottenere maggiori ricavi con l'applicazione di interessi oltre la soia. Parole dure che adesso dovranno essere vagliate dai giudici di appello. Si torna dunque in Tribunale per il caso De Masi. Si ricorda che il processo denominato Palmi 1 è già arrivato al giudizio definitivo della Corte di Cassazione e ha visto l'assoluzione dei vertici di alcuni dei più importanti istituti bancari italiani. La battaglia va avanti in sede civile ma l'azienda dopo una titanica battaglia non ha ottenuto il completo risarcimento per un gruppo di imprese che danno lavoro a oltre 150 operai. Anche se c'è da dire che è in corso una delicata trattativa in sede ministeriale che ha già dato qualche importante frutto.